È dicembre e come da tradizione parliamo di DOS e oggi voglio rispondere alla domanda come si programma un gioco per DOS? In questo video voglio mostrarti un progetto che ho iniziato qualche anno fa ma che poi ho abbandonato senza completarlo. Un clone del gioco Bomberman che gira sotto DOS in grado di girare su un Olivetti M24. Prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Vediamo innanzitutto le specifiche dell'Olivetti M24. Ha un processore Intel 8086 a 16 bit e 8 MHz, 640 KB di RAM, una scheda video compatibile CGA. Noi useremo la gloriosa risoluzione 320x200 con ben 4 colori. Come suono ha il PC speaker in grado di emettere dei fastidiosissimi beep ad onda quadra. Quindi scordati qualsiasi tipo di polifonia. E come dispositivo di input usiamo la semplice tastiera del computer. Partiamo dalla grafica. Su internet esiste un bellissimo sito chiamato The Spriter's Resource che contiene gli spreadsheet della maggior parte dei giochi 2D. Quindi ho preso lo spreadsheet del gioco Bomberman per Nintendo 8 bit e con Gimp ho cambiato i colori di modo da avere i 4 colori disponibili su CGA. Piccola nota. Non tutti sanno che non è vero che i 4 colori su CGA sono ciano, magenta, bianco e nero se usi la palette fredda e rosso, verde, giallo e nero se usi la palette calda. In realtà al posto del nero ci puoi mettere uno qualsiasi dei 16 colori che hai disponibili in modalità testo. Quindi per il mio colone di Bomberman ho scelto la palette fredda con ciano, magenta e bianco ma al posto del nero utilizzo il verde. Una volta ottenuta la PNG con i colori CGA occorre per convenienza estrarre tutti i singoli sprite in immagini separate e per questo ho scritto un piccolo tool in Python chiamato ExtractTiles.py. Questo tool ed il prossimo richiedono Python 3 e la libreria Pillow che ci permette di manipolare immagini in maniera molto semplice. Ora che abbiamo un'immagine a per frame di animazione possiamo andare a creare i nostri sprite sheet con un formato simile al layout della memoria video CGA e per questo ho creato il tool makecga.py. Visto che la CGA usa 2 bit per pixel, cioè 4 pixel per byte, la prima cosa che faccio è generare il byte che contiene 4 pixel e questo lo fa la funzione byte from image. Poi, visto che il layout della memoria su CGA è interlacciato, salvo i file con prima le linee pari e poi le linee dispari. Questo ci permetterà di visualizzare l'immagine più velocemente come in operazioni. Passiamo ora alla musica. Jim Leonard, conosciuto nella demo scene come Trickstar, ha scritto un bellissimo tracker per DOS e PC speaker chiamato Monotone. Se conosci la demo 8088 MPH, ecco la sua musica è stata scritta proprio con Monotone. E guarda caso, la musica di 8088 MPH è presente nei repository di Monotone e si chiama swingin1.mon. Ora, se io premo CTRL W, posso scrivere su file un dump dei valori da scrivere sul timer per poter suonare questo brano. Il gioco si aspetta che questo file venga chiamato game.snd. E veniamo infine al codice del gioco. Ho scritto tutto in linguaggio C, niente assembler, nemmeno per l'intrapendler o le parti che si interfacciano direttamente con l'hardware. Visto che abbiamo appena parlato di musica e di timer, andiamo a vedere il file timer.c. Vediamo in linea 6 un puntatore intero chiamato music che contiene il contenuto del file game.snd che, come detto poc'anzi, è una lista di valori da scrivere sul timer. La variabile imusic è l'indice corrente all'interno dell'array e l'endmusic è la lunghezza dell'array. La magia capita nella funzione int08 che, come dice il nome stesso, è l'endred dell'intrapotto, cioè quello del timer. Funziona così. Il canale 0 del timer normalmente viene utilizzato per aggiornare date e ora di sistema circa 18 volte al secondo. Io ho quadruplicato la frequenza di questo canale per poter cambiare la frequenza dello speaker circa 72 volte al secondo. Visto che ho quadruplicato la frequenza, ogni 4 interrupt vado a chiamare l'interapendler originario per far sì che le date e ora di sistema rimangano aggiornate correttamente. Piccola parentesi. Questo spiega perché dopo aver giocato ad alcuni giochi su DOS, a volte ti ritrovavi l'orologio di sistema completamente sballato. O i programmatori del gioco si dimenticavano di chiamare l'interapendler originario per l'interpotto, oppure si dimenticavano di ripristinare la frequenza originaria al canale 0 del timer all'uscita del gioco. Ma vediamo la parte interessante dell'interapendler. Vado a scrivere il valore di music sul canale 2 del timer che è collegato direttamente al PC speaker e quindi lo speaker suonerà con la frequenza che ho appena impostato. Passiamo ora alla tastiera. Purtroppo le funzioni tra virgolette standard, kbit e getch dei compilatori C per DOS non ci bastano, perché sì ci dicono quando un tasto viene premuto, ma non ci dicono quando viene rilasciato. Occorre quindi programmare la tastiera a basso livello. Nel file keyboard.c vediamo che quando un tasto viene premuto o rilasciato viene generato l'interap 9. All'interno dell'interap 9 leggo la porta 60 esadecimale che mi dice quale tasto è stato premuto o rilasciato e io vado semplicemente a scrivere il valore 1 o il valore 0 nel array key tracker all'indice corrispondente al tasto premuto o rilasciato. In questo modo ho tutte le informazioni che mi servono. Se dalla lettura precedente del key tracker alla lettura attuale il tasto passa dal 0 a 1 vuol dire che il tasto è stato premuto, mentre se dalla lettura precedente a quella attuale passa da 1 a 0 vuol dire che il tasto è stato rilasciato. Questo significa anche che finché leggo 1 nel key tracker significa che il tasto rimane premuto. Nel file keyboard.h invece ho dato un nome per quale scan code letto dalla porta 60 esadecimale a quale tasto corrisponde. Vediamo quindi il file video.c. sebbene il compilatore watcom abbia delle routine per gestire la grafica ad alto livello, visto che mi sono scritto l'interapp handler per speaker e tastiera, ho voluto gestire la grafica cg a basso livello. Ecco quindi che le funzioni set video mode e set palette vanno a chiamare l'interapp 10 che ci viene fornito dal bios della scheda video. La funzione wait for bit blank aspetta che il crt controller sia nello stato di vertical retrace e questo ovviamente capita alla frequenza di refresh del video, che nel caso del modo 4 delle cga è di 60 hertz. Questa funzione verrà chiamata ad ogni frame del loop del gioco per ottenere un framerate costante indipendentemente dalla velocità del processore. Piccola parentesi. Molti dei giochi pc più vecchi non sincronizzavano il framerate del gioco con quel del crt controller, ma presupponevano che il gioco sarebbe stato eseguito sempre su un 8088 a 4,77 MHz, col risultato che se questi giochi venivano eseguiti su pc più veloci diventavano ingiocabili da quanto giravano veloce. Questa è anche la ragione per cui molti pc 286 e 386 avevano un pulsante turbo per rallentare il processore e farlo girare in maniera simile ad un 8088 a 4,77 MHz, ma sto divagando troppo. Torniamo al nostro video.c e della funzione drawImage. Ho messo una flag di compilazione chiamata useBackBuffer dove se è settata uno vado a scrivere l'immagine in un array in RAM e successivamente questo array verrà copiato in memoria video dalla funzione updateScreen. Se invece useBackBuffer pari impostato a 0, scrivo direttamente in memoria video. Vediamo che la memoria video è al segmento B800 esadecimale, ma attenzione! Se ti ricordi nel file python avevamo diviso l'immagine in linee pari ed in linee dispari. Questo perché la memoria video DCGA è interlacciata. Quindi a partire dall'offset 0 trovo le linee pari ed a partire dall'offset 2000 esadecimale trovo le linee dispari. Quindi questa funzione fa due loop, uno per le linee pari ed uno per le linee dispari. E tutti i bit shift che vedi sono dovuti al fatto che in un byte ci stanno 4 pixel. Quindi se l'immagine che voglio visualizzare non si trova con una X multipla di 4, occorre shiftare i bit per visualizzarla alla coordinata che mi interessa. Altra parentesi. Io qui ho scritto un'unica funzione che calcola di quanto shiftare l'immagine ed effettua sempre le operazioni di shift e di end anche quando non sono necessarie. Ho visto giochi che, a parte che normalmente questa routine la scrivono in assembler, ma hanno due funzioni per disegnare immagini. Uno per i valori multipli di 4 e uno per gli altri valori, di modo da non far perdere tempo prezioso alla CPU se l'immagine si trova una coordinata X multipla di 4. Poi la funzione clearArea si comporta esattamente come drawImage, ma va semplicemente da zerare un'area all'interno della memoria video. La funzione readImage legge o dal backbuffer o direttamente dalla memoria video e mette l'immagine risultante in un array passatogli come parametro. Infine la funzione updateScreen. Se avevamo impostato la flag UseBackBuffer copia una porzione del backbuffer in memoria video. Se invece avevamo impostato la flag UseBackBuffer a zero, questa funzione non fa nulla. Terminiamo l'analisi del codice col file main.c. La variabile map contiene la mappa del gioco. La lettera W sta per wall e indica un muro indistruttibile e la lettera B sta per brick. Saltiamo un bel po' di dettagli e nella nostra main vediamo che faccio una marea di chiamate a loadResource che non fa nient'altro che caricarmi un array il contenuto di un file. Poi imposto la modalità video ed inizializzo il timer, speaker e tastiera. A questo punto mostro su schermo la mappa iniziale. Passiamo direttamente al loop del gioco e vediamo che per uscire dal loop basta premere Esc oppure Q. Poi c'è il WaitForVBlank per sincronizzare il framerate del gioco di cui abbiamo parlato poc'anzi. Ecco qui che finchè uno dei tasti direzionali è premuto allora muovo il giocatore. E qui invece vediamo come gestisco una transizione di un tasto. Se nel frame precedente il tasto spazio non era premuto ma ora lo è, allora piazza una bomba. Poi salvo lo stato attuale del tasto spazio come stato precedente per il prossimo frame. Ora saltiamo un po' di logica di gioco che altrimenti questo video durerebbe delle ore ed arriviamo alla fine del loop. Disegno il personaggio alle sue coordinate. Poi questa rectunion mi calcola l'area occupata dal personaggio nel frame precedente ed in quello attuale. ed infine scrivo effettivamente su ram video solo quell'area. Dal momento che il mio target è un Olivetti M24 non posso permettermi di ridisegnare tutto lo schermo ogni frame e quindi per ottenere performance decenti devo aggiornare solo quelle parti di memoria video che sono effettivamente cambiate rispetto al farine precedente. uscito dal main loop ripristino gli intra-pendler originari per tastiera, timer e speaker e ritorno alla modalità video iniziale. Non dimentichiamoci di liberare le memorie allocate dai file. Molto bene, ora non ci resta che compilare i sorgenti di questo gioco. Per fare ciò occorre utilizzare il compilatore OpenWatCom che troviamo facilmente nella distribuzione di FreeDOS. Questo compilatore funziona benissimo su DOSBox. E prima di tutto occorre eseguire il file OWSTENV.BAT per poter avere tutte le variabili d'ambiente richieste dal compilatore correttamente settate. Poi basta dare il comando vmake-a per compilare il tutto. A questo punto nella directory out, oltre che grafica e musica, abbiamo anche il nostro eseguibile game.exe. Volendo possiamo eseguire game.exe direttamente da DOSBox, ma voglio farti vedere come gira questo gioco sono Livetti M24 emulato da 86 box. . . . . . . Sì, come vedi, a parte a muovere il personaggio e a piazzare qualche bomba, non c'è molto altro. L'avevo detto che ho abbandonato il progetto senza completarlo. D'altro canto, penso però di essere arrivato comunque ad un buon punto dal punto di vista tecnico. E spero di aver comunque soddisfatto la tua curiosità su come si fa a fare un gioco per DOS. Grazie dell'attenzione, ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video, ciao! Come suono hai il PC speaker in grado di emettere dei fast odisi...